ciao luisa siamo ancora nel parco del curone io so che qua vieni spesso anche per conto tuo col tuo cane e con amici che cosa fai e perché vieni qua si è vero io almeno una volta settimana sono qui in questo parco ci vengo la mattina molto presto perché mi piace entrare in questo parco quando ancora l'uomo non si è svegliato mi viene da dire e quindi mi metto proprio in contatto con la natura più natura che ci possa essere e arrivo in cima a una delle piramidi che ci sono qui nel parco mi giro e osservo il sole nel suo sorge stavo dicendo che tramonta osservo il sole mentre sorge ed è magnifico vedere come dal buio illuminato solo da qualche stella piano piano si illumina tutto tutta la vegetazione e tutto quello che ci circonda con il mio cane perché è l'unico momento in cui gli posso dire vai sei libero goditi questo momento e vivendo in città lui non ha questa possibilità di farlo quotidianamente e con persone a me care e che hanno come me questo sentire nei confronti dello stare in natura